Bentornati su Nomamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dilan Dog serie regolare Oggi parliamo insieme di Dilan Dog 447 dal titolo Hazel la Morta, sigla Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale Di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri Che vi frega e di condividere il video con tutte le persone che amano Dilan Dog o le realtà virtuali E di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero e di questo mio video Vi accolgo oggi con questo maglione tra il natalizio e il bordo sangue perché ci stiamo avvicinando a Natale Non so se questo sarà il mio ultimo video prima di Natale perché come ho detto anche in altri video Per me questo è un mese un po' intenso spero di riuscire a fare almeno un altro paio di video Ma non ci metterei la mano sul fuoco quindi approfitto per augurarvi buone feste Per augurarvi buon Natale spero che lo passiate ovviamente con i vostri cari e con tanti fumetti Regalati da leggere insieme e apprezzare Ma ora mando le ciance parliamo appunto di Dilan Dog In questo numero che devo dire ho letto in due tranche L'ho letto inizialmente subito dopo aver letto Samuel Stern Ho divorato la parte iniziale ma appunto ero in viaggio e quindi non ho potuto finirlo subito L'ho finito con calma e mi ha dato un po' la sensazione a livello di storia Che la parte finale fosse un po' troppo non lo so accelerata Mi aspettavo qualcosa non in più a livello di contenuto Nel senso che si dilungasse un po' di più la parte finale Ma potrebbe essere un'esperienza adulterata dal fatto appunto che l'ho letto in due parti diverse Quindi voglio chiedere a voi se l'avete letto tutto d'un fiato o se avete avuto la stessa sensazione Però prima di andare subito alla parte finale di questo video Vorrei parlare come sempre dei disegni e voglio partire anche dalla copertina in questo caso Questa copertina che come già ci aveva preannunciato Barbara Baraldi Continua il ciclo diciamo delle intelligenze artificiali, delle realtà virtuali E questa cosa la possiamo capire percependo la virtualità di questo albero Che ci hanno insegnato con i reticolati a comunicarci il senso di finto, il senso di virtuale I numerevoli film, telefilm che parlavano appunto di ologrammi Ci hanno insegnato che poco prima che un ologramma svanisca c'è questo reticolato Ma allo stesso tempo mi ha colpito tantissimo la ragazza che credo sia Sì, è la ragazza che chiede aiuto ad Elon, delle tante morte che ci sono in questo numero Che tiene tra le mani palesemente uno smartphone Ma ha uno sguardo non attento, può sembrare anche un coltello insanguinato E credo che sia la metafora più corretta per questo numero Questo smartphone così quadrato, così tagliente Che sembra appunto una lama di un coltello insanguinata Che appunto può ferire, può fare danni Ma è come in questo numero Tutto ciò che passa attraverso appunto questi oggetti, questi smartphone Che appunto sono delle piccole finestre verso il mondo Ma sono anche delle piccole finestre dal mondo Verso la nostra intimità, la nostra privacy E in questo caso i nostri segreti più reconditi, più viscidi Cose che non vogliamo che la gente sappia E che spesso mascheriamo appunto con Perdonate la cacofonia Con la maschera dell'anonimato Nel virtuale, nei nickname, nei profili fake E questo è un po' appunto il caso di tutte queste persone Che esattamente come nel numero scorso Prendono un grande classico Il numero scorso era la casa stregata La casa infestata Qua invece è una sorta di So cosa hai fatto l'estate scorsa Che in questo caso è appunto La presa in giro di una vittima Che può richiamare appunto film Come so cosa hai fatto l'estate scorsa O anche, perché no La stessa Carrie Che da vittima poi diventa carnefice E li rimescola In salsa appunto Non dico moderna Perché appunto Lo spettro dell'incubo virtuale C'è da molti anni Però diciamo È tornato un po' in auge Con l'intelligenza artificiale E diciamo Mescola un pochino I due generi Che Almeno a esperienza mia Non si sono mai mescolati Prima Oltre alla copertina Ho adorato anche i disegni Che sono appunto di Marinetti Che se non sbaglio È al Al suo esordio Sulla serie regolare Ricordo bene Ragazzi Ma perché Perché non c'è stato prima Qua davvero Si sente Particolarmente L'unione Tra Il moderno E il classico Non so come spiegarlo Però i disegni Sono Presi Dai primi cento Sono proprio disegni Splatter Con Una griglia Anche Regolarissima Ma Allo stesso tempo Non sono vecchi Cioè non hanno quel sapore Che magari si può trovare Nell'old boy Dove ci sono Non lo so Delle inquadrature Molto più vecchie Qua la griglia È classica Lo splatter È tipico Dei primi cento Ma ci sono Delle inquadrature Che sanno di moderno Questa unione È perfetta Per Il nuovo corso Il nuovo vecchio corso Che vuole dare Barbara Baraldi La tavola Che Non vi spoilero Perché l'hanno L'hanno spoilerata Per primi Quelli della Bonelli Che vi mostro qua È spettacolare Questo serpente Che avvolge La vittima Che esce Dalla sua bocca Che la strangola Ma allo stesso tempo Esce anche Dalla gabbia Dal reticolato E fa Da un senso Di Di 3D Di tridimensionalità La stessa cosa La dà anche Il gorilla Che però Poi si scopre Non essere collegato La scena precedente Ma è un collegamento A una scena Che ci riporta Alla Alla normalità Queste tavole Queste Espressioni Soprattutto Tutta la parte Splatter Mi ha ricordato Tantissimo I primi Neanche i primi 100 I primi 50 Anzi I primi 51 Perché è uno stile Che in certi In certe inquadrature In certi volti Soprattutto nel volto femminile Della Della protagonista Che è Spettacolare Disegnata da Dio Mi ha ricordato molto Anche Brindisi E quindi Complimenti A Marinetti Per Per lo stile Che appunto Si sposa benissimo Con questo numero Di Dylan Dog Appunto Come ho detto La storia parla Di questa Hazel Di questa Strega Che viene Evocata E pare Che sappia Tutti I segreti Che Queste persone Nascondono A loro stessi Non a loro stessi Che nascondono Tra loro E nascondono Al pubblico Se così vogliamo dirlo Da chi appunto Attraverso Quella che Oggi potrebbe essere Only fans Ma tra qualche anno Potrebbe essere Una nuova piattaforma Da un altro nome Ha Tra virgolette Tra i suoi clienti Affezionati La vittima Che scopriremo Alla fine del numero Ma che Non solo Ce l'ha Tra i suoi clienti Affezionati Ma Prende in giro Il fatto Che questa persona Si è innamorata Di questa ragazza Che fondamentalmente È una performer E fino a Fare una performance A pagamento Tra persone Maggiorenni Non c'è nulla di male Quando invece poi Scatta La presa in giro Perché appunto Ah ti sei innamorato Mentre io stavo solo Facendo il mio lavoro E lì diventa Una sorta di bullismo E di bullismo Parla anche questo numero Perché alla fine Tutte le persone Hanno in comune L'aver Bullizzato Un ragazzo Per Per essersi Innamorato Di una persona Che in realtà Non lo ricambiava E non solo Non lo ricambiava Ma Si è anche presa gioco Di questo suo amore Questa rabbia Ha fatto Nascere Nella vittima Un senso Molto profondo Di vendetta Ma purtroppo Anche Questa vittima Ha anche commesso Un suicidio Ma La sua vendetta È andata Oltre la morte Perché ha generato Questa entità Che poi scopriamo Alla fine Non essere Un'entità Sovrannaturale Ma essere Un'entità Creata dall'uomo Virtuale Ma forse ha importanza Ma forse c'è differenza In realtà Non c'è una grossa differenza In un certo senso Anche Un'entità maligna Come Hazel La strega Sarebbe stata creata Dall'uomo Se fosse stata Davvero Rievocata Dopo Dopo la sua uccisione Nel Nel medioevo Nel periodo Della caccia Alle streghe Qui è stata creata Appunto Dall'abilità Della vittima Ed è appunto Stata creata Per proteggere La vittima Da tutte le Le cattiviere Che Che gli si Che gli si potrebbero fare E che gli sono state fatte E quindi Questa Hazel Virtuale Va appunto A vendicarsi Mostrandoci Tutte le Le iniquità Tutte le Le ingiustizie Di queste persone Che sembrano A loro A loro volta Vittime Ma in realtà Sono state Tutte Carnefici Di questo Ragazzo Tra l'altro Regalandoci Delle tavole Splatter Ottime Che secondo me Sono davvero Spettacolari Per la rinascita Di Dylan Dog Un'altra tavola Che vi vorrei mostrare Se non l'avete ancora letto Questa magari Un po' più spoilerosa Nulla di che Però Un incidente In cui un treno Sfonda Un'autovettura E vediamo proprio Il cranio Di una delle vittime Totalmente Maciullato Con i famosi Occhi Che sono tanto cari A Tiziano Sclavi Andare in giro Per le vignette Un numero Che mi è piaciuto Devo dire Mi è piaciuto Forse un po' Meno Dell'altro numero Ma forse perché L'altro numero Aveva dalla sua La forza di avere Più disegnatore E quindi mi ha colpito Quello Qui c'è Un solo disegnatore Ma con delle tavole Egregie Ci dà davvero Delle inquadrature Molto claustrofobiche Che si parte dalla camera Appunto del ragazzo Della vittima Ma anche All'inizio ci dà Delle inquadrature Dello studio Di Dylan Dog Che non è mai stato Così pieno Di cianfrusaglie Cioè Dylan Dog Ne colleziona È di mostruosità Ma mai come In queste Vignette Vediamo casa sua Il suo studio Così pieno Zeppo Sembra proprio Un accumulatore seriale E ci dà proprio Questo senso Di claustrofobia Molto 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 carina Questa Questo punto di vista Su Dylan Dog In ultimo Barbara Baraldi Ce lo dice all'inizio In questo numero Ci sono stati appunto Dei glitch Degli errori voluti Per farci un po' Giocare Con questo numero Io non so Di preciso A cosa faccia Riferimento Barbara Baraldi Fatemi sapere voi Se avete trovato qualcosa Io vi posso dire Penso di averli trovati Nella Nella chiacchierata Con Graucio Perché Graucio In questo numero Non si vede Se non Credo in un'inquadratura Nella tavola 36 Dove è alle spalle Di Dylan Dog Ma la sua voce Nelle tavole precedenti Non è fuori campo Cioè a volte è fuori campo Ma a volte Viene Dal Diciamo Dalla Come si dice Dall'avatar virtuale Che ha creato Dylan Dog Quindi non usando Le proprie fattezze Ma usando Quelle di Graucio E a volte Il dialogo E palesemente Dovrebbe venire Dal Graucio reale Ma in realtà Viene dal Graucio Virtuale Non so se Questo è uno Dei glitch Appunto citati Dalla Baraldi Non so se sono Tutti in quelle vignette O se ce ne sono altri Che non ho notato Fatemi sapere voi Cosa avete notato Qui sotto nei commenti Non vedo l'ora Di rileggerlo E scoprire cose Che non ho notato Io Vi ringrazio Per avermi seguito Fino alla fine Della mia disamina Scusate se è stata Un po' disordinata Ma è stata un po' Dittata anche Dall'entusiasmo Di questo numero Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino alla fine del video E come sempre Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo numero Al prossimo video Al prossimo anno Se Ci vediamo Nel prossimo video Di Dylan Dog Grazie ancora Arrivederci Grazie a tutti